Capitignano, Cagnano Amiterno, Monteriale Pizzoli e poi Lucoli, San Pio delle Camere, Campo di Giove, Barisciano, Poggio Picenze e Navelli. A Corfinio mancano due alunni per mantenere la scuola dell'infanzia aperta, mentre la primaria non ha più iscritti. Eronia della sorte, proprio a Corfinio c'è un edificio scolastico inaugurato pochi mesi fa e destinato a restare vuoto. Una lunga lista di comuni che in tutta la provincia dell'Aquila, ma anche in tutte le altre province abruzzesi ricadenti nelle aree interne, per i quali questo sarà l'anno forse più drammatico per la sopravvivenza delle loro scuole. L'anno scolastico 2019-2020 infatti potrebbe veder scomparire decine di cosiddette scuole di montagna. Tutta la fascia pedemontana italiana è in grande sofferenza da anni, le scuole chiudono perché si perdono i numeri degli iscritti, le famiglie lasciano i paesi oppure scelgono di iscrivere i figli in scuole vicine ai loro luoghi di lavoro. Un impoverimento inesorabile in Abruzzo aggravato dal terremoto. Un appello alla politica locale a farsi carico di avviare una vera e propria avvertenza a scuole a livello nazionale, soprattutto per la provincia dell'Aquila, viene dalla CGL. Occorre rivedere al più presto, con un tavolo serio di concertazione, i criteri e i numeri stabiliti dal MIUR per la formazione delle classi e di conseguenza per l'apertura delle scuole. Non è il primo degli anni drammatici che viviamo perché purtroppo è il problema dello spopolamento, dovuto anche ad eventi sismici, ma il calo demografico a questo punto hanno determinato un problema diffuso e di difficile anche soluzione. Nelle scuole situate nelle aree interne ormai siamo tornati alla pluriclasse quasi ovunque e dove ancora questo non è avvenuto comunque in via di definizione. Però purtroppo la pluriclasse finché si riesce a reggere, perché anche la pluriclasse ha dei limiti, ha dei limiti numerici a cui bisogna far riferimento. Ma la chiusura di una scuola comporta anche la perdita dell'ultimo presidio sociale e culturale di un territorio. Avere meno alunni vuol dire anche avere meno insegnanti, meno persone alleata e quindi meno lavoro. Le scuole del sud hanno bisogno di risorse, hanno bisogno di interventi sull'edilizia, hanno bisogno di interventi sulla dispersione scolastica, hanno bisogno delle risorse che i governi sono anni che non mettono in campo. Quindi chiaramente siamo assolutamente contrari rispetto a quello che ha detto il ministro Bussetti e lo abbiamo già contestato. Grazie a tutti.